Davide Pasquano, una bella partita quella di questa sera, un buon vantaggio conquistato già all'inizio, nel primo quarto. Sì, siamo riusciti a portare in porto la partita grazie al vantaggio che abbiamo giocato nel primo quarto. Appunto nel terzo quarto siamo un po' calati e loro, scala che non muola mai, sono tutti soli, ma senza sopravvi per una concentrazione. Il proseguo di stagione non è certo dei più facili, ma soprattutto vi aspettano i play-off. Ovviamente adesso il gioco si fa duro e noi siamo pronti per giocarsi in play-off. Come sta l'Aquila Basket? L'arrivo di Santa Rosa vi ha aiutato in qualche modo a rinvigorirvi? Sì, da esperienza, da portare la sua esperienza, portare la sua classe, che ci aiuta, siamo pronti per andare in play-off.